Io lavoro in un ristorante, finisco sempre molto tardi la sera, tanto che tutte quelle che mi sono arrivate sono arrivate dopo le 1.30 verso le 2 di notte e tutte per un chilometro in più oltre il limite o due chilometri oltre il limite, con la beffa che c'è la maggiorazione di un terzo la sera quindi vengo a pagare una multa abbastanza salata. Io ero abituato a sapere che c'era un limite dei 70, 20 anni che faccio questa strada andando su e giù e alla sera se io vado ai 55 e non so che cerco il limite, mi pare di essere un pirata della strada. Quante ne hai presi di multa? Io ne ho già prese 6, ne stanno arrivando altre 10, sono andato nel portale, sono riuscito a vedere che ne stanno arrivando altre 10, più quelle che verranno caricate dopo. Andrea lavora in un ristorante, questa strada la fa da 20 anni, è uno delle migliaia di multati dagli autovelox lungo la strada 307 del Santo la sua è una storia emblematica come quella di Endrio, Andrea Massimo. Sua moglie in realtà, quanti ne ha prese? Ne ha prese 14, si prevede che siano anche 15 perché ogni giorno fa questa strada per andare a lavoro con una macchina, con una cubo a metano dunque non è un'auto che corre forte. Se io ho preso 4 multe vuol dire che sono reputato un pericolo per la strada? A che velocità è stato sanzionato? Allora, calcolando la differenza di 5 km all'aria è 56, quindi 56 meno 5 è 51, quindi la mia sanzione è stata calcolata a 51 all'ora. Sono circa 700 euro più 9 punti, è venuto fuori il discorso del ritiro patente per troppe multe, alla fine io li ho presi in 20 minuti, non sono di Cadonego, ho i figli a Viego d'Arzere e quindi insomma mi sono trovato in questa situazione. Lei le ha già pagate? No, chiaro che non le pago e di fatti siamo qua per cercare di capire come muoversi. E c'è chi le multe le ha in mano come Paolo e Ambra? Le hai ricevute, le hai già pagate tutte, quanto ho pagato? Per un totale di, fino adesso, sono 300 euro di multe già pagate, nel giro di 3 giorni ne ho pagate esattamente 6. 5 finora, prese tutte a giugno in 5 giorni, io ho un'invalidità del 76% per una forma grave di artrite che mi prende le gambe, quindi io di solito uso il bastone, figuratevi in macchina come sfreccio. Continua a parlare anche Michele Schiavo, ex sindaco e consigliere di opposizione, contattato da numerose aziende. Ci sono aziende che, piccole aziende, non grandi aziende, ma hanno da pagare 12.000, 15.000 euro di multe e che ci starebbe anche, ma è l'affidare i numeri, i punti della patente che vengono tolti a degli autisti, quindi lui si trova con mancanza di personale di svolgere il servizio che svolgeva normalmente.